Di sci alpino nel maschile secondo gigante in Valbadia vince il fenomeno Odermatt, il migliore azzurro è ancora Filippo Della Vite, quattordicesimo Ettore Giovannelli. Una vittoria schiacciante e brillante, lo svizzero Marco Odermatt ha dominato il secondo gigante della Valbadia. Nella prima manche ha staccato gli avversari, infliggendo loro pesanti distacchi. Nella seconda ha resistito al ritorno del norreggese Christoffersen, sciando con classe e determinazione. Difficile, dura, è stata una battaglia intensa con Christoffersen. Ho sentito la stanchezza di tante gare in sequenza, sono esausto ma felice. La pista era difficile, tante curve, manche lunghe, alla fine non sentivo più le gambe. Al terzo posto sul podio lo sloveno Zankranic e la quindicesima vittoria in carriera per il giovane Odermatt, che ora ha ben 271 punti di vantaggio in classifica generale su Kilde. Per l'Italia, purtroppo, è finito subito fuori nella prima manche Luca Deliprandini, che per la terza volta su quattro gare in questa stagione non riesce ad arrivare al traguardo. In crescita, invece, Filippo Della Vite, 21 anni, bergamasco, ha recuperato sei posizioni nella seconda manche e ha ottenuto un promettente quattordicesimo posto. Ancora un'altra gara solida, con una bella seconda manche, quindi sono contento.